Scenario Abruzzo è il progetto di turismo outdoor rappresentato alla risposta di un mando della fondazione Carispac che finanzia nella prima fase e che propone tre pacchetti di turismo esperenziale in tutto il territorio della provincia dell'Aquila. Una parte interessante del progetto è che diversi attori appassionati di biciclette e sci che fanno parte di sci attori faranno da Cicerone ai turisti alla scoperta del territorio sia in chiave invernale che estiva. Tra i partner il parco Sirente Velino fondamentale per Calfulcro attorno al quale si muovono i percorsi. Antonello Liberatore è il coordinatore del progetto al quale ha partecipato anche l'associazione Aquilana Bike 99, capofila del progetto stesso. Personaggi del mondo del spettacolo, musicisti appassionati di montagna, di sport, outdoor e che partecipano di solito a scopo benefico, quindi sport, solidarietà e spettacolo, ma appunto conoscitori del territorio e amanti che saranno diciamo accompagnatori del turista in questo itinerario che si svolge all'interno della provincia dell'Aquila che attraversa delle zone inesplorate, insomma delle zone poco conosciute. Sono tre pacchetti verranno presentati di cui uno è sugli sci, un altro e due invece hanno delle attività ciclistiche, quindi saranno escursioni in bicicletta e altre di trekking e la Bike 99 da sempre fa questo tipo di attività e quindi siamo da supporto alla parte diciamo cicloturistica dell'esperienza che offriremo. Presenti all'auditorium del parco diversi attori con il presidente di sciattori Roberto Ciufoli, amici della regione e appassionati di sport, come Giorgio Borghetti, attore impegnato attualmente nella fortunata serie Un Posto al Sole, che per 40 anni ha frequentato l'altipiano delle Rocche avendo casa lì. C'erano anche la regione con l'assessore Liris e il vicepresidente dell'Aggiunta Emanuele Imprudente per il Comune, gli assessori Fabrizio Aquilio e Vito Colonna. Sono sciceroni, visto che siamo sciattori, noi siamo innamorati dell'Abruzzo e collaboriamo con queste associazioni per far partire un progetto che è, come abbiamo detto, turismo esperienziale, emozionale. Noi rappresenteremo quello che è il racconto della storia, dell'emozione che chi parteciperà a questi itinerari vivrà. Io sono, Roberto ha detto, abruzzese di adozione, io ho avuto per quasi 40 anni una casa all'altopiano delle Rocche, quindi Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio sono la mia seconda casa. No, io ho una passione sfrenata per lo sci e quando abbiamo iniziato questo progetto l'ho accolto e abbracciato immediatamente. Sia dalla parte della beneficenza o dalla parte della cultura, noi siamo sempre in prima linea. Grazie.